Partito dalla stazione di Trieste sabato 10 febbraio, il treno del ricordo che onora la memoria delle vittime delle foibe e ricorda l'esodo istriano Fiumano e Giuliano Dalmata nel secondo dopoguerra, ha fatto tappa mercoledì 14 al binario 1 di Torino-Portanuova. La stazione torinese è una delle 12 tappe in altrettante città italiane in cui si raccontano attraverso l'allestimento evocativo di vagoni d'epoca su cui avrebbero potuto viaggiare proprio quei profughi, le vicende dell'esodo della complessa ridefinizione del confine orientale dopo il 1945. A Portanuova il treno è stato accolto dagli alunni delle scuole cittadine e dalle autorità locali. Per l'intera giornata i torinesi hanno potuto visitarlo per ritornare con la memoria a una delle grandi tragedie della seconda guerra mondiale e del periodo immediatamente successivo. Nei quattro vagoni principali è stata allestita una mostra multimediale aperta al pubblico, suddivisa nelle sezioni Italianità, Esodo, Viaggio del dolore, Ricordi di una vita. Filmati di repertorio provenienti dall'archivio dell'Istituto Luce e da Rai Teche, video originali, fotografie, masserizie fornite dall'Istituto regionale per la cultura istriana fiumana Dalmata, inquadrano storicamente e umanamente le sofferenze patite da civili che, nella stragrande maggioranza, non erano colpevoli per le violenze e le vessazioni che negli anni precedenti i nazi fascisti avevano inflitto alle popolazioni di etnia slovena.